Si dice bene, no? I coglioni, dice, no? Ma i coglioni, ma loro, io ne conosco più di uno, loro si credono di essere, mica lo sanno di essere i coglioni, ma che fanno? Si sposano, fanno i figli, e i figli sono dei figli di coglioni, che poi anche lì, io per carità, che dico, il babbo è il babbo, non è che tu non abbia da volere bene al babbo, da portargli rispetto, però io dico, ma questi figli, non lo so, io non se ne accorgono, quando parlano con il loro babbo non lo vedono, non lo sentono, no? O sono coglioni anche loro, perché allora lì è una fatica, perché fra coglioni, no, c'è qualche volta qualcuno che dice, no, il mio babbo è un coglione, sì, però lo dice in senso buono, in senso che è un buono, che è un galantuomo, che poi anche lì è un discorso, che vuol dire? Allora perché i discorsi sono, uno perché è galantuomo deve essere per forza un povero coglione, no? Attenzione, io dico, attenzione, perché un coglione può essere benissimo un galantuomo, può essere buono, sì, può essere anche cattivo, cioè, se noi buoni e cattivi è anche fra i coglioni, non è che, mica perché, coglione mica vuol dire che uno è coglione può anche andare vestito bene, può, ne so, può avere gli occhiali, può essere, guarda che ti dico io, un coglione può essere intelligente, uno intelligente, ma allo stesso tempo può essere coglione, per dire, no? Può essere istruito, può avere un paio di lauree, può, non è quello, se è ignorante, se è ignorante, che i coglioni ignoranti quelli sono la disgrazia, non ci si ragione, è come parlare a un muro, no? Ora capisco che uno può, dice, sai, ma se un coglione può essere tutto, uno può rimanere disorientato, dice, no, che cosa vuol dire essere coglione, no? Cos'è la coglionaggine? Eh, questa è una domanda, è una domanda questa, è una domanda, è fatica, come si può spiegare, non è facile, bisogna trovare un esempio, beh, non lo so, i coglioni fanno le cose alla rovescia, per esempio, no? Fanno le cose alla rovescia e tu li vedi che sbagliano, è evidente, tu sai come andrebbero fatte quelle cose, eh, provi a dirglielo, anche con le buone maniere, ma loro niente, niente, tirano dritto, tu cerchi di dargli una mano, di metterli su una buona strada, ma loro ti guardano in questa area così, allora tu ti arrabbi, no? Ti sfochi sulla libera piazza, arrivi, ah, ma ci sono dei coglioni, no? Incazzi, cioè qualcuno dice, beh, hai ragione, hai ragione, infatti, sì, sono dei coglioni, però, però, però che, però, però, che, però? Però sono tanti, comandano loro.